Dario Argento Perché non mi hai detto che Harker veniva a lavorare per il conte Dracula? Che cosa sono questi? Un insetto a mio punto. Gli insetti non lasciano dei segni così grossi. Da quando sono arrivata qui a Passport sono accadute troppe cose strane. Non sempre uccidono la loro vittima. Talvolta la trasformano. Ciò li rende estremamente potenti. Ha bisogno di sangue per continuare a vivere. Lui è mio! Nemmeno l'amore per una donna potrà cambiare il suo destino. Mina! Dracula, un film di Dario Argento. Prossimamente nelle sale in 3D e in 2D.